Ciao! Anche quest'anno vi aspettiamo a Futurando, la festa per giovani sostenibili. Balleremo con il megnino Svala, guarderemo lo spettacolo teatrale Pop Economy, impareremo a produrre in casa detersivi biologici, a riparare la nostra bicicletta, a riciclare la stoffa e altre cose ancora. E in più, naturalmente, vi aspetta il nostro stand gastronomico. Ci trovate presso l'Oratorio di Sant'Anna da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Tutte le informazioni su www.facebook.com slash Futurando 2013